Hashtag Consiglio tweet dal Consiglio Provinciale di Trento Trasformazione e preparazione dei prodotti agricoli prevalentemente con i metodi biologici i promotori del referendum hanno annunciato che recapiteranno altre firme che sono rimaste presso i comuni a causa delle limitazioni imposte agli spostamenti in queste ultime settimane Porta la firma di Alex Marini ma è stata sottoscritta anche da Sara Ferrari e Alessio Manica la mozione per sollecitare la Giunta a rimuovere Vittorio Sgarbi dal suo ruolo di presidente del Mart a scatenare le polemiche e le recenti affermazioni del parlamentare sul coronavirus e soprattutto le sue esortazioni a violare le regole poste a presidio e tutela della salute dei cittadini chi nel mezzo di una crisi gravissima si comporta in una maniera simile, afferma Marini dà prova di disprezzo verso la vita delle persone e non deve pertanto ricoprire incarichi che lo portino in qualsiasi modo ad essere associato al Trentino In caso di violenza domestica non saranno più le donne e i bambini a dover lasciare la casa che condividono con il maltrattante ma sarà questo, venire trasferito Convinto, applauso per questa decisione del procuratore di Trento Raimondi è stato espresso dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Trento In questo modo le donne maltrattate e i loro figli verranno meglio protette dal rischio Covid-19 e verrà risparmiata alle vittime l'ulteriore violenza di dover lasciare la propria abitazione in questi tempi già di per sé di grande incertezza aggiunto la Presidente della Commissione Paola Taufer Si ricorda il numero nazionale 1522 ed i centri antiviolenza del Trentino sempre pronti ad accogliere le richieste di aiuto delle donne in difficoltà Ascoltà